Allora, almeno di questa sera abbiamo cominciato con dei calamari, dei calamaretti piccolini, ripieni di bacala mantecato su una crema di pomodoro fresco e olio di olive taggiasche, stravergine di oliva taggiasco, seguito da un primo, che è un risotto carnaroli mantecato al Castelmagno, con un inserimento di ristretto dolce di ormeasco superiore. Abbiamo usato molte erbe aromatiche questa sera, germogli di erbe aromatiche, prevalentemente basilico. in 4-5 declinazioni diverse. Abbiamo chiuso con un polpo, cotto in bassa temperatura, immerso sempre nel vino ormeasco, che era lo stesso vino che poi i clienti hanno degustato, cotto per 5 ore a 85 gradi, dopodiché terminato in piastra ad alta temperatura, in modo che l'esterno rimane più croccante. Anche quello lì è servito su una patata mantecata con sempre olio extravergine di olive taggiasche e un'emulsione di piselli freschi, con in abbinamento un croccante sempre di piselli e delle erbe aromatiche, sempre il basilico in un'altra declinazione. E abbiamo chiuso con un dolce che è una variante di una, diciamo, foresta nera, però rivista un pochettino in chiave più vicina al nostro territorio, anche quella lì profumata con basilico alla liquirizia, e servita con una marmellata, una composta di ciliegie del nostro albero, aromatizzata anche quella lì con il vino ormeasco. Alcune caratteristiche segnano comunque questi piatti, abbiamo detto tra queste, ad esempio il discorso sul secondo piatto, quindi la crema di piselli, e un utilizzo proprio delle materie al 100%, in che modo? Diciamo che anche in conformità con quella che è l'idea dell'Expo di quest'anno 2015, si cerca di ottimizzare l'utilizzo dei prodotti cercando di fare il meno scarto possibile, e quindi questa crema viene ottenuta con 100% piselli, frullati, filtrati e emulsionati. Quello che rimane di questo lavoro di filtraggio non sono che quelle che venivano chiamate le spore negative, in realtà sono soltanto le pelli dei piselli, che vengono disidratate in forno e si crea così un croccante, però essenzialmente di solo piselli, senza l'aggiunta di nessun altro prodotto.